Mario Delpini ha parlato lo scorso anno Parole che danno vita, parola cristiana e mondo della vita è un tema impegnativo importante, quello scelto per la seconda edizione della giornata formativa rivolta al clero, ma aperta anche a tutti coloro che hanno a cuore la Chiesa e il Ministero così come viene detto nell'aula P11 degli Atti Accademici dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e sono tanti sacerdoti riuniti per ascoltare i diversi interventi affidati a volti noti e voci prestigiose insomma uno sguardo a 360 gradi sulla parola umana e sulla parola con la P maiuscola con quella sollecitudine che già indicava il Cardinale Martini e che oggi appare più necessaria che mai Il tema che è stato individuato insieme alla redazione della rivista del clero italiano è stato quello proprio dell'importanza della parola e delle parole ecco ci accorgiamo come questa parola di Dio è parola di vita e nello stesso tempo però le nostre parole rischiano di entrare in quella che è un po' la chiacchiera del quotidiano e allora vogliamo proprio interrogarci su questo anzitutto per quel recupero di una spiritualità e quindi di appartenenza alla parola come dice San Paolo e nello stesso tempo anche però mettere a frutto tutte le nostre capacità anche di dire oggi il Vangelo Organizzato dall'equipe della formazione permanente del clero però dall'Arcidiocesi, dalla rivista del clero italiano e dalla cattolica l'incontro ha avuto quindi al suo cuore proprio il concetto di parola in un momento in cui sempre di più si fatica a trovare un linguaggio comune Abbiamo un po' l'impressione diciamo che la parola cristiana si esprime un po' in un dialetto e non sempre sia significativa e allora ci chiediamo che cosa significa anche per noi renderla nuovamente carica di queste qualità la rivista del clero lo fa appunto per sua natura cioè offrire parole che siano significative, autorevoli per interpretare la realtà, per interpretare il presente per giarci anche un po' di coraggio nel testimoniare anche dentro le resistenze e le difficoltà Bisogna accettare di vigilare su questi due punti Prima la persuasione, loro chiedono la persuasione certo la persuasione è un antidoto alla violenza e si dice la fede va da questa parte abbiamo scollinato dall'idea del conquistare a tutti i costi però la persuasione è anche una brutta bestia come sapevano gli antichi il suo luogo principale, preferito è il sesso e la politica che quando attraversano la strada della persuasione diventano appunto esperienze di libertà, di ordine ma se la persuasione diventa seduzione diventa subito violenza diventa tentativo di padronirsi, di impossessarsi è la fine allora l'antidoto secondo me alla perversione della persuasione è l'ironia cioè persuasione è la strada della persuasione ma con una grande ironia nei confronti appunto dei propri diktat delle proprie convinzioni dure e pure e poi l'umorismo che tanto può aiutare le nostre parole ma l'ironia nella Bibbia c'è in quantità dunque l'ironia nella Bibbia bisogna mettercela noi come quasi tutto dobbiamo mettere noi nella Bibbia dobbiamo soprattutto mettere l'amore, la fede per quello che c'è scritto e dobbiamo mettere il nostro sguardo che naturalmente cambia a seconda dell'età a seconda delle condizioni l'ironia è un'arma che piace al Signore Dio è evidente lui stesso probabilmente ha sorriso quando ha visto il risultato del suo lavoro che siamo noi ci ha fatto imperfetti e dunque l'imperfezione è la prima benzina dell'ironia perché se tutto andasse bene non ci sarebbe motivo di ridere questo non significa che in paradiso non si stia bene però magari un filo di ironia in più potrebbe aiutare anche lì l'ironia può aiutare le parole che fanno male gli scontri sulle barricate questo è un tema difficile da affrontare perché il rispetto verso le fedi altrui è fondamentale per cui bisogna stare molto attenti a non ferire la sensibilità delle persone è ovvio che chi è molto fanatico chi non sa guardare l'altro non sa riconoscerlo di solito non è armato di ironia quindi l'ironia può essere una bella medicina in generale ma anche in questa battaglia per non dico tollerarsi che è una parola che non mi è mai piaciuta ma insomma per rispettarsi l'un l'altro grazie 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 grazie